San Zenone, traffico in tilte in via Fontanelle, la strada che porta a Crespano di Pieve del Grappa per un incidente stradale frontale tra due auto condotte rispettivamente da un uomo e una donna, entrambi residenti nel Bassanese. Dall'impatto è rimasto ferito l'uomo di origine indiana, trasportato all'ospedale San Giacomo Apostolo di Castelfranco con un politrauma.